Sì, lo sindaco nella Galleria Civica Comunale è un'altra mostra di prestigio, tra l'altro dicevamo prima con l'autore da moltissimi anni mancava nella sua città con una esposizione delle sue opere e questa antologica arriva appunto dopo ben 20 anni. Sì, 20 anni di assenza che sono stati però anni di grande lavoro di Carlo Catuonio, il quale peraltro la stessa mostra la sta presentando un po' in giro per l'Italia, è stata a Siena, è stata a Ferrara, in varie parti d'Italia ed era giusto che anche la sua città gli tributasse un riconoscimento. Il riconoscimento che va ovviamente all'arte di questo nostro concittadino è un'opportunità che va a tutti i capesi di conoscerlo, di apprezzarlo. Io personalmente ho visto le sue opere, sono di grande valore, mettono insieme tecniche differenti per cui sarà anche l'occasione per soprattutto le nuove generazioni di approcciare appunto l'arte anche da un punto di vista tecnico, immaginiamo anche di fare gli incontri con le scuole nel mese in cui la nostra sala mostre a Santa Maria del Rifugio sarà aperta. Dunque sabato sera alle 18.30 questa inaugurazione per una mostra tutta cavese ma di assoluto crescente. Comunale l'inaugurazione di una mostra dell'artista Carlo Cattuogno, una mostra particolarmente interessante perché dopo anni torna nella sua città a esporre le sue opere. Il perché di questo titolo? Allora intanto dopo quasi 20 anni si tratta di un'antologica che raccoglie circa 40 opere. Il gesto della pittura perché la mia pittura è basata su un movimento di danza oserei dire, per cui il colore deve arrivare sulla tela con una certa velocità. Dicevo 40 opere, la mostra è divisa in quattro sezioni, anni 70 e 80, anni 90, 2000 e ceramica. Questa è la cosa importante da sottolineare, la diversità del substrato sul quale appunto l'arte di Carlo Cattuogno viene espressa. Ovviamente qual è secondo lei la tecnica che più le ha dato soddisfazione finora? Ma devo confessare che lei ha toccato un punto molto importante della mia attività. La ceramica è fondamentale per un artista perché, secondo me, si trova giusto al centro tra la pittura e la scultura. Cioè è un modo come rappresentare un'opera sia pittoricamente che poi modellandola e quindi creare poi delle forme. Ma la cosa più intrigante poi della ceramica è l'effetto del fuoco, ossia quando una scultura, un piatto subisce poi nel forno la cottura a 980 gradi, alcune cose cambiano, per cui c'è anche l'ausilio del fuoco nella combinazione dell'opera. In effetti abbiamo capito che la ceramica è un po' l'espressione artistica che più l'ha intrigata nel corso di questa sua lunga carriera artistica. Sì, sì, le spiego un segreto. Allora, quando si dipinge ci sono degli strati cromatici, la pasta viene stesa sulla tela, sul supporto e quindi si crea l'opera. Quindi si va a sovrapporre. Nella ceramica invece il processo è completamente opposto perché bisogna sapere che alcuni colori, se sovrapposti, non danno lo stesso effetto. Faccio un esempio. Se io metto il rosso e poi lo copro con il verde ramina o con un colore blu scuro, non si ha lo stesso effetto che si ha in pittura. Quindi bisogna già sapere che per ottenere un tale colore, un tale effetto cromatico, bisogna invertire il ruolo. E allora diamo l'appuntamento agli amici che stanno seguendo questa intervista per l'inaugurazione della mostra che poi tra l'altro durerà circa un mese. Un mese, sì, sì. Quindi invito tutti gli amici, gli appassionati, i collezionisti e sarà una bella serata, immagino. Sampato 11 alle ore 18.30. Presso la sala civica comunale, la galleria civica comunale a Santa Maria al rifugio di Cava dei Tirreni.